Luca Luca, noi sappiamo che anche tu hai collaborato a scrivere la canzone che vi sovrai e... Raccontaci un po' com'è andata, ecco ... . . Grazie. 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 And this is her CD, it's in the stores right now. It is incredible, go get it. I feel like I don't know me if I do you, just gonna hurt when it feels too. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Grazie.